Ma che c'è? Il mercato laggiù cosa c'è? Cosa succede lì? Ah ma perché una deve uscire, sì, di andare. Ma succede una volta delle specie di tafferugli. Ok, va bene aspettate. Allora, A guida B. Per iniziare a fare questo basta decidere, faccio io guido prima. In due secondi, tirata la moneta, salmessa. Dopo un quarto d'ora vi diamo il cambio. Nel cambio la persona B che ha ricevuto il trattamento dice dieci parole per dire. Se è morto non parlerà. Se sta benissimo, c'è bisogno di parlare. Voglio dire se c'è qualcosa a dire, se no lo dice alla fine. Però qualche parola nello scambio si può fare. Però poche. Perché se no avete visto Ambra che ha fatto un po' fatica a parlare. Quando si esce da quello stato si fa un po' fatica. Forse comerebbe non. Sì, alla fine. Alla fine di lo scambio. Alla fine lo scambio. Lo facciamo alla fine. Alla fine lo scambio. Alla fine lo scambio. Alla fine. No, no, dopo. Adesso esperienza. Ok, prendiamo posizione, così possiamo cominciare. Se riuscite a distanziarvi un po' dagli altri non vi disturbate a vicenda con le conduzioni. Ok, e cominciamo. Siamo in due, che non siamo proprio... Ah, ok, uno è più esperto. Uno di un pochettino più. Mettiti qui. Lei dov'è? 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 È un lui o una lei? È un lui. Non c'è una scaletta precisa. No, 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 segui quello. Siccome lui è la prima volta di... Fai stare lui con Paolo, che è più esperto, ok? Ci sarebbe pure un anno. Tu sei più esperto. Prima stavamo stato di grazia. Ok, e c'era... Vai, vedi, segui lui. Grazie. Ciao. A lui manca anche il compagno, vai tu. No. O devi fare qualcosa? No, pensavo... Ok, non ti preoccupare. E ti riempio. No. No, non volevo il ferro. Ok. Ok. Ok, partiamo. Se qualcuno è rimasto da solo, alzi bene la mano. Ecco, la vedi. Ok. Grazie. Grazie. Per un quarto d'ora. Grazie. 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 Cominciamo ad avviarci verso la fine. Grazie. E mano a mano che concludiamo ci prepariamo a fare il cambio. Ok, cambiamo e partiamo col secondo turno. Grazie. 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 dieser. Un'ambiente. Il Cosa che dia l'idea di un seminario estivo. Perché a Trevi veniva un botto ai piedi? c'è gente che dice ah mi faccio la vacanza con senso di dole grazie 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 ci avviamo verso la conclusione grazie 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 Grazie. 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 Grazie, avete finito? Sì. Siete pure in pausa, tornate qui a mezzogiorno e venti. Ah, benissimo. Se vi volete dare dei feedback, fateli fuori così gli altri stanno tranquilli. Ok. Ha un accento pazzesco. È bellissimo. È siciliano, no? Sono siciliano. È pazzesco. Se avete finito, andate in pausa, tornate qui a mezzogiorno e venti, ok, se vi dovete scambiare i feedback, fatelo fuori. Ah, ok, scusa. No, figuratevi. Se avete finito, andate pure in pausa, tornate qui a mezzogiorno e venti. Ok. Se vi dovete scambiare i feedback, fatelo fuori così gli altri possono continuare. Grazie. Se avete finito, andate pure in pausa, tornate qui a mezzogiorno e venti. Se vi dovete scambiare i feedback... Mezzogiorno e venti. Grazie. 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 … ... … Grazie.